A raccontarla non ci si può esimere dal provocare un sorriso, anche se si parla di una notizia di cronaca. A Bitonto, infatti, un rapinatore si è presentato in un distributore di benzina con un vetusto ape, ha arraffato i sogli ed ha provato a ripartire con il motocarro. L'ape a questo punto si è bloccato ed il rapinatore è dovuto scendere dal mezzo e spingerlo a mano per riuscire ad allontanarsi, il tutto sotto gli occhi attoniti dei clienti. Il tutto è stato ripreso dalla videocamera di sorveglianza e le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti che indagano su questo ed altri episodi. Il fenomeno delle rapine ai distributori, infatti, è un fenomeno di particolare allarme sociale che creano un poco disagio, soprattutto nella provincia barese e nei dintorni di Bitonto.